Uè non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi mamma mia anche oggi un bel po' di notizie super interessanti per quello che riguarda i prossimi giorni di Fortnite. Giorno molto importante oggi perché arriva alle ore 14 l'update della patch 7.4. Non serve l'aggiornamento. Siamo con gli amici ragazzi di Fortnite Italy, gruppo Telegram ricco di persone. Il link lo trovate in descrizione, mi raccomando andate a farci un bel salto. Nel video ragazzi parleremo del merchandise ufficiale di Fortnite. Ci sono un bel po' di oggetti interessanti che stanno cominciando a girare per la rete, ovviamente rigorosamente Epic Games. Parleremo ragazzi delle terremoto news. Non posso non tenervi aggiornati ora per ora su tutto quello che succede in questi davvero ultimissimi giorni prima di entrare di prepotenza in quella che sembra essere una delle season più interessanti di sempre. Parliamo proprio della season numero 8. E ovviamente una bella sbadilata di leaks che non vi fanno mai male e che vi tengono aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Voglio ringraziarvi, voglio ringraziarvi per utilizzare ragazzi il mio codice XIUDERONE quando fate le vostre scioppazzate violente. Grazie di cuore a tutti per il grande supporto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando e se la trovo soprattutto... Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica. La domanda, la domanda ve la devo fare raga, la domanda è portabene, portabene ed è una domanda super. Quale stendardo stai usando? Sono troppo curioso di sapere quali standardi utilizzate e perché. I vostri commenti qua sotto, io utilizzo, vabbè lo sapete, quello del livello 100 come ho utilizzato la scorsa season perché mi piace veramente tantissimo, faccio un po' cagare addosso gli avversari quando lo vedono. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare di standardi. Il primo leaks del video di oggi vi mostra lo standardo che vi verrà regalato al completamento della settimana numero 8 del Frost Knight. Ovviamente stiamo parlando di Save the World, una torre, niente di esagerato, comunque pur sempre uno standardo che potrete utilizzare nel Battle Royale. Ma salva il mondo, ci regala un altro bellissimo leaks, anzi due ragazzi, una lancia. La state vedendo, sarà utilizzabile esclusivamente appunto in questa versione del nostro Fortnite e ha, come state notando, la bandiera molto simile all'ultimo fucile da cecchino che vi avevo fatto vedere che è il valvasore, se non ricordo male, disponibile di già nei file di gioco di Save the World. Ma la spada, o meglio la lancia, chiamiamola così, non è l'unica news che vi porto ragazzi. Sbronk! Siamo sempre su Save the World e questa è una nuova arma che arriverà molto presto, è una drum gun in stile steampunk, quindi una specie di Thompson, se volessimo chiamarla così, drum gun e Thompson è la stessa cosa per loro, solo che come vedete la grafica è assolutamente molto molto steampunk. Per chi non conoscesse lo stile, sono tutti quegli ingranaggi arrugginiti, messi assieme, che formano le bestiolate incredibili. Abbiamo dei file che ci confermano l'immagine che vi ho appena mostrato, si chiama ragazzi, pa 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 pa, auto rifle, drum gun weapon, drum gun fire, ed è veramente molto particolare. Rivediamola un secondo ragazzi, uno stile davvero unico, uno stile ragazzi che potrebbe essere associato ad una parte della season 8. Ve ne ho già parlato, ci sono i robot ragazzi, non è un caso, robot e steampunk vanno abbastanza a braccetto, potrebbe essere un grande leak che vedremo davvero in game solo durante la stagione numero 8. Ma ragazzi, guardate la sniachirona, vi voglio parlare ragazzi dello zaino, lo zaino ufficiale di Fortnite, lo troverete, adesso vi faccio vedere anche il sito, davvero molto molto carino, uno dei primi oggetti ufficiali sponsorizzati direttamente da Epic Games, abbiamo proprio una galleria fotografica che ci mostra in un contesto urbano l'utilizzo dello zaino, che come state notando, mostra alcuni dei personaggi più famosi del nostro videogioco preferito, ma nasconde anche un qualcosa di particolare. Guardate ragazzi, notate che c'è nella parte centrale dello zaino dei denti da squalo, quindi sono molto più propenso a pensare che sia il marchio di fabbrica dell'azienda produttrice dello zaino, ma la cosa che a me interessa farvi vedere, Porco Giuda è sempre scritta in piccolissimo, è che nella descrizione dello zaino viene detto attenzione a dove camminate in Shorby Shark. Shorby Shark ragazzi è, potrebbe essere inteso come una delle nuove location della stagione numero 8, tradotto in italiano vorrebbe dire gli arbusti degli squali, quindi non ha molto senso in realtà la traduzione letterale, ma ci lascia davvero un, non lo so, una roba, una roba che ti fa dire e che cacchio c'è l'acqua, c'è il vulcano, che cavolo c'entrano gli squali ragazzi, non lo so. Però se voi cercate Fortnite Shark Royale, troverete anche ovviamente il sito dove potrete acquistare per 70 dollari lo zaino. Vedete un po' voi ragazzi se la spesa vale il prodotto. Voglio però ragazzi adesso farvi vedere un video, stiamo sempre parlando di Leak, questa volta invece siamo in Battle Royale, quindi nella nostra modalità classica e guardate ragazzi, questo è un gameplay senza audio, perché non mi fido, del piccone Rhino, quindi quello che dovrebbe arrivare prestissimo insieme alla skin. Come vedete ragazzi, il piccone ha alla parte finale il suo corno, quindi il corno di un rinoceronte e come vi avevo già ricordato qualche giorno fa, la skin Rhino sarà una skin comunque meccanica, quindi il mechanical Rhino. Si parla ancora di robot ragazzi, di automi che quindi continuano a farsi sentire abbastanza pressanti e probabilmente integranti nella season numero 8. Ma siamo arrivati alle terremoto news ragazzi, siamo arrivati alle terremoto news, è apparsa, è apparsa ragazzi la crepa numero 8. Crepa numero 8 ve la faccio vedere bene ragazzi, è apparsa là in alto, dietro al quartiere, quindi continuano, guardate ancora ragazzi, guardate quante ne mancano, quelle verdi sono ovviamente quelle già accadute, quelle rosse sono quelle che devono arrivare, ve la faccio vedere anche in un'immagine un pochettino più bella, come vedete ecco qua, un'inquadratura decisamente migliore, ne mancano ancora 3 di 17, perché saranno 25 le crepe, siamo solo arrivati a 8, quindi staremo a vedere ovviamente giorno per giorno dove appariranno le prossime crepe, ma prima di salutarci ragazzi, volevo anche farvi vedere questo deltaplano, i più attenti o quelli che hanno guardato il mio video giovedì scorso, due giovedì fa, con l'arrivo della patch, due giovedì fa, con l'arrivo della patch 7.4, avranno anche visto che avevo pubblicato questo deltaplano, beh ragazzi vi confermo, che sarà uno dei deltaplani presenti nella season 8, non si sa se del battle pass o se di una skin, è molto più probabile che sia invece nel pass battaglia, vi dico questo perché il deltaplano presente nei file di gioco, non ha altro che queste immagini, non ci sono suoni, non ci sono texture, non ci sono movimenti, c'è solo questa immagine e probabilmente è il primo di una lunga serie, che arriverà nella season 8. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, mi raccomando, iscrivetevi tantissimi al canale, vi mando un abbraccione, noi ci vediamo alle 13 in live, ciao! Ciao!